Hola a todos, io sono Cronox, ben ritrovati nel mio canale Come sempre nel primo commento vi lascio il link al giveaway che è del tutto gratis Quindi mi raccomando partecipate, a tutti i partecipanti vi farò vedere il vincitore In più vi ricordo che nel primo link in descrizione trovate quello per donare Nel caso vogliate supportare il Cronox nazionale Ma adesso passiamo subito in game Fast, check your targets Control the hill to gain points Fast, check your targets He'll moving in 30 seconds Fast, check your accuracy FI è costato where i completi È costato in giro Usi autofraestano � FI, cvi ci sono Connect poner Te lascio Besté Sc啦 Chi Ha Che Ma Sì 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.